Mentre il territorio strizza l'occhio e l'aerospazio, le Proloco ci riportano con i piedi per terra. Da sempre custodi della tradizione contribuiscono effettivamente alla promozione del territorio. Su iniziativa congiunta della Proloco di Taranto e quella di Lizzano, è in atto presso la Galleria Comunale del Castello Aragonese di Taranto la mostra di ricami a mano e cucito creativo, che sarà visitabile fino al prossimo 31 luglio. Una rete, le Proloco lavorano tutti insieme, quindi con la Proloco di Lizzano abbiamo deciso di fare questa esposizione non solo per i tarantini ma anche per i croceristi che arrivano adesso a Taranto e quindi c'è questa nuova opportunità sia per noi di mostrare le cose belle che abbiamo non solo in Taranto ma anche nella provincia e sia anche per le signore che fanno questi lavori che sono veramente meravigliosi. Ci sono dei lavori che oramai sono un po' dimenticate, però visto che oggi ritornano o c'è gente che lavora, perché non farli vedere a tutto il mondo o a tutto il pianeta? In esposizione le creazioni di tre signore di Lizzano che con passione continuano a tramandare l'antica tradizione artigianale. Si tratta di Anna Maria Leggeri, Piera Mirenda, Anna Maria Prudenzano. A supportare il loro impegno l'assessore al turismo del comune di Lizzano, Chiera Caniglia e il vice sindaco di Taranto, Fabrizio Manzulli. È un laboratorio di artigianato creativo, ci sono degli sprendi di monili, poi ci sono delle borse, insomma c'è di tutto, è bellissimo. Queste signore uniscono la loro grande passione a una grande maestria e quindi c'è solo da imparare da loro e perché no anche da acquistare qualcosa. Noi siamo sempre come assessorato al turismo del comune di Lizzano, ma io sono membro storico della Proloco di Lizzano, quindi noi ci teniamo molto a che le nostre tradizioni siano sempre fruite anche ai più piccoli. Infatti ci sono vari laboratori all'interno della Proloco per insegnare ai più piccoli questi lavori che non vorremmo fossero dimenticati. Lo sviluppo dell'artigianato, come sta cambiando, come si sta trasformando, ne parlavamo qualche settimana fa anche con il mio collega della Regione Alessandro De Linoci, anche sul processo che hanno fatto su questo nuovo regolamento rispetto all'artigianato e a tutti gli artigiani, anche quelli diciamo più meccanici, più particolari, insomma abbiamo delle qualità e delle caratteristiche davvero uniche in tutta la Regione Puglia, nel nostro territorio ancora di più perché insomma deriva da una tradizione davvero antica. Affidiamo alla signora Piera Miranda la chiusura del servizio. Fare e disfare per meglio fare, le mie piccole mani piene di dita.